In questo nuovo video giochiamo con il mio e Matteo Bertelli E benvenuti su questo nuovo video con il mio amico di Matteo Bertelli Perché lo ripeto, le decisioni si bug Domani faccio una live bella, bella, bella Quando mi riprendo il mio tablet, bla 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 Faccio la live, capì? Capì, capì? E questo è il mio amico Matteo, saluta Aspetta, posso venire nella tua base un attimo Ok Veloce, perché vedete una cosa che puoi guardare in ogni base Puoi non uccidermi per vedere una cosa Tu cos'hai di potere? Potere? Che figata! Cosa? Guarda, hai aperto il tuo bunker Hai aperto il bunker? Sì, tuo Ma cosa l'hai fatto? Vai, base nemica E bleh, prendi Visto? Ci godo Ah Anche io avevo un armi mitica Per vedere, andando la base nemica Lo vedi? Nel... Cosa prendola io o quella? Sì Se vuoi puoi aprirlo tu Sì, si, va prendola Sono le stesse, sono le stesse Adesso ci metto un bel po' però Certo, calma, calma Curati Sì Ma hai aperto il bunker, raga Adesso ci metto un cor democrats Ciinyl Ma hai aperto il nge F no dai dai posso mi piace che non è piccolo ora gioco a Nicola ciao 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 raga questo è Niko ecco che ride dove ho scappato? eh si scappato a ruttare altre due partite io sfungo raga ok posso venire in base tua? posso venire nella tua base? per favore devo fare una cosa allora vado a battere il nemico e tu che color sei? oh io non volevo andare nel tuo rosso volevo andare nel verde ho perdito spettac e mi hai fatto arrabbiare ma che c'è tirato? ti ha tirato? spaventi burlone uffa io bubububub non vale far cadere comunque brutto porco di quel porco ok oggi l'intiglio oggi l'intiglio anche oggi l'intiglio oggi parli bene italiano nico che cecchino usi tu che cecchino usi cecchino non so bella raga bella figa oggi 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 con i miti che tu sei rosso io sono giallo ho capito ho detto un milione di volte ma non spararmi aspetta che faccio una cosa aspetta aspetta non scopo invidibile l'ultima partita raga spengo go 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 aspetta 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 di l'ultima partita non non parola c'è questo è che tu hai detto per la città un masso mentre dietro mentre l'interventi verso figato il potere o può prendermi cammila creativa ma io e cecchino e cecchino ti vede cecchino manchi sempre non Oh, spattano, no, 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 no. Oh! Oh, c'è c'è! Oh! Oh! Ah! Uuuuuh! Oh! Ciao ragazzi! Vengo!